Adri! Adri! Che vuoi? Mi sento nostalgico. Prego? Voglio rivedere i sotterranei. E ci sono le tre e mezza. È l'unico modo per non farci vedere da crepe. Vorrà dire che mi imbottirò di caffè. Siamo pronti? Quattro picconi, ok. Tre litri d'acqua, ok. Duecento chiodi, ok. E ci c'è. 50 cialde di caffè, ne ho consumate 37. Possiamo partire. Yes! Adri, non ti andrebbe di fare a cambio di caschetto? Grazie, ma sto benissimo col mio. Se cambi idea, dimmelo, eh. Quando avete costruito questa scala? Quando anche Dio ci cadde e si sfasciò il ginocchio, ci ordinò di costruirla. Siamo sicuri che sia abbastanza solida? Non preoccuparti, l'ha costruita Ara. Ti aspetto giù. Oddio, che belli questi fiori. Questi sono opera mia. E chi li ha coltivati? Ovviamente, Greb. E ciò, metti un po' di musica che questa parte della caverna è tremendamente noiosa. Playlist Reggaeton 2018? Prova, ci sarà l'ultima playlist della tua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.